vediamo ecco iniziata aspetta che mi faccio uccidere dai uccidetemi si è iniziata ok facciamo un stab dopo chiudi la porta però dovresti avere l'invito si facciamo caio perico con christian lol ok però non ci ho fatto pesante che giorni messo che giorni messo sera no ora la faccio di giorno no ancora devo farlo già sei entrato ok si si ti sto aspettando allora dovrebbe partire eccola qua si e allora io metterei giorno che si vede di più si facciamo giorno si io pure di notte non mi piace allora io farei io farei questo siccome abbiamo la facciamo molo nord si perché c'è il camion così entriamo direttamente col camion senza fare troppe robe ma quanto dovrebbe circa il colpo cosa quanto dovrebbe il colpo in due ma penso che tu più di un milioncino te lo fai non e te eh non lo so ora vediamo e io dovrei fare mezzo milione mi hai invertito ti sei messo 85 e io 15 no no ora la sistemo non ti preoccupare ok ok ma comunque se vuoi tentolo è giù 85 ciao Gabriele benvenuto ok fai pronto? eh no no perché non gioco su pc Gabriele quindi non potrei farlo grazie comunque mi piacerebbe ma non potrei come stiti ci mettiamo? da ps4 ah non sapevo eh scrivimi qualcosa fai una cosa aggiungimi e mi spieghi un po' poi io con calma lo leggo grazie aggiungimi con questo nome su psn è lo stesso nome della live ah grande perfetto grazie mille se vuoi mi puoi aggiungere con questo nome su psn perfetto ma grande ma ti serve anche altra gente eh? ti va? perché so ci sono altri amici miei interessati oh ma c'è gta 5 su aree qui? eh si dice che c'è un server su ps4 oh no ho capito sei su ps4 o su ps5 ok ma perché dici? ok tu mandami il discord che poi io approfondisco grazie gentilissimo ps4 grande bella bella ma caro mi siamo ah ok allora ma siamo questi due colpi alla testa e uno a te e uno a io grazie ma eh grazie gentilissimo e io prendo quello biondino ho l'ho scoperto si ah c'era quello sull'angolo niente ci dobbiamo fare che ammazzare perchè? e perchè la dobbiamo fare che stealth se no non finiscono più ok ok eh dai uccidetevi ah perfetto ma allora aspetta eh va bene va bene va bene di ora mi resterà qua in chat se non riesco a recuperarlo il discord ti iscrivo su psn e me lo rimandi lì o se vuoi me lo mandi direttamente ora come finisco la live ti aggiungo fai R2 Chris no hai fatto continua? si no devi fare R2 va bene tranquillo ora lo rifacciamo dobbiamo solo tornare al cosacca eh però adesso non posso magari dopo la live o domani si facciamo una cosa io adesso faccio la live poi ti aggiungo e ti scrivo e poi tu mi dici se ci vogliamo sentire domani con calma e mi spieghi tutto grande grazie mille grazie mille grazie mille perché c'era quella barca là è perché ci sono le barca è perché ci sono le barca non posso stare là ok mettiti la pistolina ora dobbiamo stare attenti la pitaglietta si quella specie di sigaella pistola automatica aspetta che ammozzo questo ok allora ok c'è quello la no no tranquillo tranquillo adesso per adesso siamo tranquilli ora aspetta che prendi fai una cosa sali su questa cisterna e prendi c'è un rampino e prendo? c'è un rampino se vai in alto c'è un rampino lo vedi anche sulla mappa e che cosa serve? è quello poi te lo spiego allora qua ci sono solo soldi ora poi noi qua dobbiamo prendere i vestiti si intanto prendi quel rampino è altissimo si si deve arrivare in alto eccolo qui cosa devo fare? ora scendi e andiamo a prendere i vestiti io lo faccio in un'altra maniera questo è un po' strano oggi lo fai così 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 fai un'altra infatti hai un'altra soluzione se tieni la X è scivola eh? se tieni premuta la X è scivola ora seguimi non passare ovviamente nei coni visivi dei soldati vediamoli qua allora fai una cosa togliti l'arma non tenere l'arma in mano perché i soldati hanno il pallino bianco se non abbiamo le armi non ci fanno niente allora qua c'è vedi quella cassa verde a terra? si devi andare lì e fare col tastino destro ti metti i vestiti si perchè non me la posso fare faccia aspetta spostati ok va bene ora vieni con me ora vieni con me l'uscita però. Vieni sali. Allora adesso andiamo in aeroporto perché lì c'è la coca che ci dà più soldi. Tu ora devi tenere sempre l'arma posata non la devi avere nelle mani ok? Ok. Lascio il joystick. No il joystick non lo posso usare però perché ora forse qualcuno lo dobbiamo ammazzare. Facciamo due cose qua, chiudiamo la coca e... Ma perché non c'è segnata nella minima? Eh non lo so, è strano. Ma c'è tanta. No no tranquillo questi qua non ci interessa no? Ci resta solo questo? Cosa facciamo? Vieni, togli, non prendere l'arma e vieni con me. Entra. Apri quella. Dove? Qua qua. Ma la faccio io tranquillo. Io apro questa? No no io qua. No l'altra non si può aprire. Fai una cosa prenditi questa qua. Questa non quella. Questa. Aspetta cos'è cosa? Si. Si si. Ok prendi questa. Io faccio così. fatto. Che cos'è? Un muletto. Aspetta. Aspetta. si può stagli da la? cosa serve? ah ve lo vengo che complicato ah non l'avevi visto questo? ah scala apri quella cosa che c'è su e prendi solo la coca si meno male che non è come casinò che ti puoi scassinare difficilmente ok tu sei pieno io sono pieno non tenere armi ed esci aspetta vediamo dove ah qua c'è un'altra fantastico quindi possiamo fare tutto qua l'unica cosa è che dobbiamo stare un po' attenti allora adesso io prima di andare via vado a staccare le telecamere ti aiuto? eh no non c'è bisogno l'unica cosa bisognerebbe fare fuori aspettiamo che quello se ne va aspettiamo 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 allora l'unico problema è che c'è una telecamera che mi da un po' fastidio sì deve darmi la andata guardo la live intanto. Si così vedi anche un po' come lo faccio e ti festa poi. Si. Qua mi sa che disero il trapano giusto. Cosa stai facendo adesso? Sto staccando le telecamere dell'isola. Così non ci sono più le telecamere. Almeno togliamo qualcosa che ci può dare pastini. Ok. Engeferelo ha disabilizzato le luce e le telecamere di sicurezza. Qua ce ne possiamo andare. Devo prendere questa roba che c'è qua. Aspettali eh. Devo stare attento perchè c'è uno che si gira. Ok. Bene. Ma questa missione può essere anche non stealth? No. Fatta così la devi fare per forza stealth. Ma se non la fai stealth? Praticamente sono nemici infiniti e ogni volta che ti sparano si brucivi dei soldi. Oh. Oh. Ora aspetta che esco. Devo aspettare che quello si gira sennò mi vede quando esco. Eh dai girati. C'è una caramela per terra. Ok. Finalmente. Eh eh a gusto fragola a destra a destra. Oh non mi passa niente. Ecco l'ho trovata. Oh no. Ok. Oh ma sta arrivando uno. Con la macchina? Nascondi. No no. Nascondi. Ok ora da qua ce ne possiamo andare. Ok. Non vuole usare questo qua che forse è più veloce. Cosa? No no. Dobbiamo entrare. Questo qua ci serve per entrare senza farci scoprire il complesso. Ok. Ora aspetta che vedo dove mi conviene prendere. Qua c'è l'altra coca. Prendiamola qua. Si dai. Si sei? Si si. Ok. Ora con questo camion noi possiamo passare in mezzo ai soldati senza che ci scoprono. L'importante è che non abbiamo le armi in vista. Aspetta anzi che mi assicuro perché non me la ricordo. Allora. Ok non ce l'ho. Che fa? Io non mi fai divertire un sacco. Ah perché no fai guidare a me fai guidare a me. Ah scusa. No non è colpa di voi perché sono sceso io. Fai il giro. Sali. Il mio personaggio sempre a John Sino al cappello. No no sali da qui. Il mio personaggio sempre a John Sino. Non so perché. Si. Allora. Che sei a metà. Il borsone. Tu sei pieno no? Si si. Eh io c'ho a metà. Sono verde. Io c'ho a metà e quindi ora prendiamo questo e ce ne andiamo. E ricordati anche il rubino. No il rubino non c'entra col borsone. Ah e neanche il quadro. No il quadro non lo possiamo prendere perché se ci andiamo con i borsoni pieni va bene così. Però il quadro da meno soldi. Anche. Per questo sto prendendo. Sto facendo così. Allora. Ok. Ok. Noi ci prendiamo un attimo qua. No. Io vorrei prendere questa roba. Attento a divestirli adesso. Si si lo so. Ok. Ok. Perché mi fa tipo una visuale strana anche. Mi fa la prenderla e torno. Io resto qua. Se puoi si. Ora venire. No vieni vieni. Faccio casino. Faccio casino. Faccio casino. No se vuoi vieni tranquillo. Ah è là dentro. Si guarda nella live. Oh sta arrivando uno. Si si. Un po' casino. No. Devo fare una cosa. Questa è brutta qua. Qua è un po' bruttia. Questa. Io salgo sul. Va così forse è meglio. Così non mi scoprono. Dopo scendo. Si. Perché appena ha passato uno. Si si sta attento. Vabbè questo maledetto. Ok. Mamma no quanto stai rischiando. Ok questo è fatto. Ora devo fare questi due. C'è uno con la macchina. Questo qua. Non se ne va. Quanto difficile. Si questo è un po' complicato. Perché siamo due. Ok fatto. Adesso ha il borsone pieno. Si ora io lo riempio con questo. Arriva a un milione. Eh anche di più. Un milione e due. E' passato un'altra volta un'altra. Si l'ho visto. 881. Un milione e due. Si. Un milione e quattro. Un milione e quattro. Si. Un milione e quattro. A due milioni. Perché la stiamo. A due milioni e tre. Si. Più o meno si. Si. Ok. Ma dopo il tempo se c'era quello. Aspetta che scendo. Sale sale. Quello a quattordici. Se fai entro quattordici. Minuti. Minuti. Si. 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 Io la sto facendo. Con calma. Si. E' meglio. Tanto per 50 milioni. Non avrebbe tanto senso. No. Si. Ma è tanto. Però. Puoi perderti anche tutto il bottino. Si. Esatto. Ora. Noi ora entriamo. Ma tu. Entriamo senza problemi. Ma tu puoi. Eh. Io ho l'Amazon Prime. Si. Te su Twitch hai l'abbonamento? Eh. No. Perché non sono. Ancora. E' perché mi sa che ci vogliono. Un tot di follower. Prima di poter fare l'abbonamento. Oh. Perché io vorrei abbonarmi a te. Ah. Grazie. E' un grande. Grazie. Eh. Speriamo che ci arriviamo. Tu. Intanto se lo vuoi usare. con qualche altro canale. Poi. Vediamo. Se ci arrivo. A prendere i follower. Poi. Quando posso fare abbonamenti. Ok. Grazie. Comunque. Come se l'avessi fatto. Sarebbe il minimo. Ma dai. Grazie. Una cosa di gentilezza. Ok. Allora. Adesso noi entriamo con calma. Tu. Si. Stai calmo. Arriveremo. In mezzo a tre. Che però. Se ti muovi. A qua. Non contano più. I travestimenti. E le cose. Quindi. Se entriamo nel. Nel raggio visivo. Dei soldati. Delle telecamere. Ci scoprono. Non ci dobbiamo fare scoprire. Tu. Stai attaccato a me. Ok. Ciao. Franco. Un altro amico. In chat. Sai che pensavo. Chi era. Chi? Quello. Che ci ha fatto passare. Al. Al casino. No. Ah. Questa qua. Caglioperica. Aspetta ferma. Non ti metterò avanti. Ok. 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 Aspetta qua. Non ti muove. Ok. Che culo abbiamo la chiave. Allora. Vieni qua con me. Vieni qua. Fai una cosa. Salta qua sotto. Non dove sto andando io. Vai sotto. E mettiti le. Sotto i portici. Buttati. Buttati. Vedi che ci sono i portici. Dove? Eh? Non vedo. Scendi. 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 No. Da qua. Vai a destra. E mettiti la sotto. Bravo. Aspetta lì. Bravissimo. Mi nascondo qui dietro. Stai lì. Stai lì. Stai lì. Stai lì. Stai lì. Forse. Peccato che abbiamo fatto. Abbiamo perso tempo. Ok. Aspetta che stanno il disco. L'arma la puoi tenere. Perché ormai. Se ci scoprono. Ci scoprono. Guarda. Se la facciamo bene. Ne usciamo. Puliti. Puliti. Guarda. Io faccio lagging. Qua. Ancora password? No. Qua si deve fare proprio. Guarda la live. Ah. Se la cos'è. Con i dici. L'ho già visto. L'ho provata a fare. Non su sta missione. Su un'altra. E te lo faccio vedere. Sulle pubbliche. Non è tanto difficile. No. Quella che mi è complicata. Questa è quella della password. Un po'. Che ci metto un po' più di tempo. Si. Ok. Andata. Mi sa che la facciamo pulita pulita questa eh. Se tu fai quello che ti dico io. Posso prendere io il diamante rosa? Si. Lo sai fare il coso? Lo sai che vedi che si spacca? Lo sai fare la torcia al plasma? Cos'è? Eh. Aspetta. Stai attento. Allora guarda. Aspetta la faccio io. La faccio io perché è un po' complicato. Se tu guardi ora la live. Vedi che c'è una. Così lo impari. Appena diventa rossa. Ressi di spattare tutto. Anche il diamante. Quindi lo devi tenere sempre a un livello che non è rossa. Vedi quella linea. Allora. Quella linea. Quella linea. Quella linea. Allora. Lo tenerò solo. Bassissimo. No. Penso che stai rischiando. Si vabbè. Però io lo so che posso arrivare a quel punto. Che è andata. Si. Tu sei un esperto. Allora. Ora l'abbiamo preso. Abbiamo 2 milioni e 3. Andiamo a prendere altri. Dico 100 mila. Ora faccio una. Vini qua. Saliamo sul. 2. 2. 3. 4. La prima è andata. Questa volta sono 4. Prima erano due impronte. Ora sono 4. Ok. 1. 2. 1. 2. 3. Per quanto sto prendendo appunti. Come un compito. 1. 2. 3. 4. 5. Ok. Adesso che cos'è? La seconda è andata. Tu devi fare praticamente. La prima. Devi mettere la 1. Poi vai qui. Ti porti a 1 e fai 1. 2. Poi fai qui. Ti porti a 1 e fai 1. 2. 3. Poi 4. Capito? Per non sbagliare. Per farla velocemente. Questa è la guinda. Devi fare 5. 1. 2. 3. 4. 5. Ok. 1. 2. 3. 4. 5. 5. 6. Vabbè questo sarà semplice perchè io metto quelli a caso e non funziona. E qua perchè non funziona? Ce l'ho sbagliato qualcosa. 1. 2. 1. 2. 3. 1. 3. 1. No questo. Se funziona una sbagliata. Ma che cavolo è? 1. 2. 1. 2. 3. Ok. Va bene. Non lo so che cosa avevo sbagliato. Allora. 1. 1. 2. 1. 2. 1. 1. 2. 3. 4. 2. 3. 4. 5. No. 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 Eccola. Ok. Fatto. Entriamo. Che figo. E' di lusso. Allora. Deve andare. C'è una cassaforte la. vedi? Qua c'è ovvero la scheda. Se ci volevamo prendere l'ora ci sarebbe io. Vedi dove c'è quel quadro. Vai su quel quadro lì. Qua qua. Dove sono io guarda. Qua qua. Vieni. Vai su quel quadro lì. Apri la cassaforte. Dovrebbe darci un'altra ottantina di... Vai vai prendi. Una 66. Ho dato una pistola. Si è quella di me. Vieni. Esci da qua. Ok. Ora. Ora. Devi stare. Proprio dietro di me. Ok. Così. Ora. Aspetta. No. Intanto usciamo. Mettiti la pistola. Ma la. Pistola. Quella. La specie di mitraglietta. Allora. Adesso sono pochi. Ma tu devi stare proprio attaccato a me. Non mi devi superare mai. Aspetta. Fermo. Vedi qua. Scavalca qua. Ok. Fermo lì. Sali. Mettiti. Aspetta. Ok. Mettiti qua e fai il tasto destro. L'ha fatto? Si. Grazie. Non lo so. Io ho fatto. Non ho fatto niente. Fatta fatta fatta. Fatta. L'ho fatto io. Rampino. Si. Ora ci dobbiamo fare la nuotata. Guarda io non capisco niente spaisata. Ora tu devi nuotare appresso a me. Allora stai attento, stai attento che sulla destra c'è un soldato. Vediamo se là dove c'è quel padiglione c'è un soldato, stai attento. Se passa una barca gli spariamo, se no ci andiamo. Aspetta, facciamo una cosa. Occhio eh. Aspetta. Bravo, stai dove sono io. Se vuoi le spariamo sempre. No, vedi se ci sono barca. Le sparo? No, no, a lui no. Guarda se ci sono barche. Aspetta. Ehm no. Aspetta che guardo meglio. Che io vedo no. Ok, devi andare andato. Eh, mi sa che qua le barche non passano più, sai. Prima passavano ogni tanto. Era un po' a fortuna. Niente, vieni con me, buttati e nuota. Segui me. Non andare sott'acqua, poi se no affoglio. Vado un po' sott'acqua o perdo soldi? No, va bene. No, no, non perdo soldi. Dobbiamo fare una bella nuotata di un paio di minuti. Tu segui me. Tanto se vado addosso questo bombo non succede niente. Eh, no. Ma ho dato 8500. Grazie. Ah, buona, è la paga. Tu mi hai dato i soldi? Sì. Ah, ti pago perché sei con me. Nella... sei nel... c'è... o c'è l'elicottero ma non ci beccherà. Ma ti tolgono soldi? No, no. Ah, ok, allora è meglio. Ah, è la paga. Sto sfamando x in una maniera. Sì, sì, devi sfamare. Ti supero? Sì, sì, perché io ogni tanto devo guardare la mappa perché devo andare nella direzione giusta. Sì, Franco, è stato un successo infatti. Franco diceva sicuro con Cristo sarà un successo. Infatti è stato un super successo. Abbiamo fatto un sacco di soldi. Ora tu lo sai quanto prendi? Quanto? Un milione e mezzo. Ah, che bello. Grazie. Ti sei comprato il cosacca quasi. Ma ne posso prendere anche due quasi. Allora mi prendo anche la... prendo lo sparro e prendo anche quello delle macchine. Sì, lo sparo ti conviene perché per le missioncine le cose ti servono. Eh ma... uso la... sennò... è buono. Tanto a te mancavano... a te mancavano 500.000 giusto? Sì. Quindi così ti resta un milione. Buono. Ok stiamo andando dritti giusti. Ma come fai a vedere se stiamo andando dritti? Perché faccio che allargo la mappa con due colpi di tastino basso, mi fermo, faccio due colpi di tastino basso, si apre la mappa e vedo che la direzione è quella giusta. Ma come fai a capire che la direzione è giusta? Perché rispetto all'isola devi andare dove stiamo andando noi. Se tu allarghi la mappa ti fermi e fai due colpi di tasto basso. Sì, lo so, lo so, io lo faccio anche mentre nuoto. No, io no, perché sennò mi parte la registrazione della clip, non so perché. Anche a me ma non importa. No, sì, infatti a me non importa. Ma cosa succede? Niente, registra una clip di quello che stiamo facendo sulla Playstation. Ok, siamo dritti giustissimi. fai conto che fra 30 secondi è finita. Lo supera, eh, Milton? Ah, perché tu fai il trucchetto che sei sotto, eh? Finita, andata, alla grande. L'abbiamo fatta pulita pulita. Bravo, complimenti. Grazie, anche a te. Grazie. Gigi. Gigi. Bella raga. Sì, ho preso la scia. Adesso ci beviamo un whisky. Una tequila. Non so che cos'è. Eh, un altro liquore. Infatti vedi che si mangiano, si mangiano la fettina di limone. La tequila è una bevanda, un liquore messicano si, si prende con, con limone e sale. 51 milioni. 2009. A te quanto ha dato? Un milione e trentasei. Quanto? Un milione e trentasei. Uno? Uno, un milione e trentasei mila. No, solo un milione ti ha dato? Un milione e trecentosessantaquattro mila. Ah, ok, ok. E te? A me settecentotrentatré. Proprio è tanto? Quasi un milione? No, sono soldi, sì. In effetti ti potevo dare anche di più, in effetti. Ma non importa. L'importante è che ti compri il cosacca. Eh. Non so, sono ricco. Eh, ricco. Ora ti compri il cosacca e ti restano un po' di soldi. Ti restano ottocentomila, sei a posto. Per un po'. Vabbè, ora noi chiudiamo la live, salutiamo, saluta anche tu. Ciao a tutti. Ciao. Ciao, ciao. Caio Perico ce lo siamo fatti, ci vediamo alla prossima live. Ciao a tutti. In trentasette minuti. Sì. Ciao. Ciao, ciao.